Buonasera, sono Enrico Cerasuolo, regista di Ultima Chiamata. Mi spiace non essere lì con voi questa sera, ma volevo inviarvi un messaggio per ringraziarvi moltissimo di aver scelto Ultima Chiamata per il premio Parco Colli Euganei e ringraziare molto l'Eugane Film Festival per aver mostrato questo film in diverse città del Veneto. Sono molto onorato, contento e sicuro che questo premio contribuirà ad aiutarci a promuovere ulteriormente questo film, che credo molto importante. Io ci ho dedicato sei anni, ho cominciato a lavorarci nel 2007 e la cosa più importante che credo di aver imparato in tutto questo periodo dagli autori di The Limits to Growth, I Limiti della Crescita o Limiti dello Sviluppo, come è stato tradotto in italiano, il libro pubblicato nel 72 di cui il film racconta la storia, e che le crisi che stiamo vivendo, la crisi ambientale, la crisi economica, la crisi finanziaria, eccetera, che tendono a esserci presentate dai media e dagli organi di potere come crisi separate, in realtà fanno tutte parte di una crisi globale, di una crisi sistemica, che ha a che fare con il messaggio molto semplice di questo libro, di questi autori e di questo film. Vale a dire che la Terra è un sistema finito e all'interno di un sistema finito una crescita infinita è impossibile. Grazie ancora.